Bentrovati! Oggi siamo a Bari, nella zona San Paolo, più precisamente in via Carlo Massa, zona ben servita e a pochissimi passi dalla metropolitana, che collega facilmente il centro cittadino. L'immobile si trova all'ultimo piano di una palazzina di quattro piani, con ascensore. Marcando la porta d'ingresso ci accoglie un disimpegno, giungendo così in un ampio soggiorno, con balcone dotato di tende da sole, che offre una splendida vista mare. Ritornando del disimpegno possiamo accedere in una comoda cucina con finestra. Attraversando il corridoio troviamo la prima stanza, adibita studio. Ancora una camera da letto dove poter realizzare una stanzetta. Successivamente la camera matrimoniale. Entrambe le stanze sono illuminate da ampie finestre. Infine il bagno padronale, recentemente ristrutturato. Completa l'immobile, una cantina e un posto autocondominiale assegnato. Lo stabile è stato recentemente riqualificato, grazie a lavori di ammodernamento e riqualificazione energetica, quali cappotto, solare termico per il riscaldamento centralizzato, pannelli solari per la corrente del complesso e dell'ascensore, riscaldamento automatico con nuovi termostati sui radiatori. Non perdete questa fantastica opportunità. Contattateci subito. Ciao, alla prossima!